Parlare apertamente delle proprie storie di vita a contatto con la malattia. E' questo lo scopo lanciato dalla diciottesima giornata mondiale dell'Alzheimer attraverso l'iniziativa I volti della demenza. Chiapavia ha proposto incontri, momenti di aggregazione e la proiezione della pellicola diretta da Pupiavati, una sconfinata giovinezza. Film in cui uno dei protagonisti accusa proprio gli effetti degenerativi e debilitanti del morbo di Alzheimer. Ospita in città per l'iniziativa, il regista bolognese ha colto l'occasione anche per una visita in università. Ultimo appuntamento in programma venerdì 28 ottobre alle ore 9 in Aula Magna un incontro con studenti ed operatori sanitari sui nuovi volti della terapia e della riabilitazione in cui parteciperà anche il famoso trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.